Buongiorno a tutti, sono qua in compagnia con la professoressa Caterina Rossi, General Coordinator, e di Jacopo Gubert. Siamo qua appunto per capire, per trattare delle parti subordinate del Fosca Moon. Ecco perché la mia domanda è, lei professoressa ha, diciamo, avuto questa idea di importare il Fosca Moon qua a Venezia, e le mie domande sono appunto da dove e perché, come mai è nata quest'idea? Allora, l'idea è nata dall'ex rettore Roccofiano e da me, ma soprattutto dall'ex rettore Roccofiano, che siamo andati a visitare la scuola Carol Boat in Messico, dove loro sono anni che fanno un'attività sin dalla nostra, proprio per aver visto i ragazzi al lavoro, ci è talmente piaciuta questa attività, che abbiamo deciso di importarla qui nella nostra scuola da tre anni. Grazie. Sappiamo che lei si è occupata anche del Fosca Moon 2014 e del Fosca Moon 2015. Ci può dare qualche anticipazione, se ci sarà qualcosa di nuovo al Fosca Moon 2016? Beh, intanto le delegazioni sono diverse, quindi ci aspettiamo altri paesi, altre idee, perché quest'anno avremo in più anche l'Austria e quindi ci sarà da dialogare con paesi, con culture e nazionalità diverse. Poi le commissioni ovviamente sono diverse, i temi sono diversi e in ogni caso sono ragazzi diversi, quindi ci saranno sempre delle novità e quindi vedremo come andrà, ma senz'altro sarà una bella Fosca Moon anche quest'anno. Grazie mille. Jacopo, qual è il tuo ruolo all'interno del Fosca Moon? Allora, io sono coordinatore dei system, quindi dirigo tutta la squadra che si occupa della logistica all'interno del progetto. Bene, e quanti operatori del system hai tu? Abbiamo circa un'ottantina di ragazzi che si dividono in tutti i più vari settori, tipo fotografia, sicurezza, catering, accoglienza, tecnici e stampa, fino alla vera e propria parte logistica, quindi manovalanza, audio, video, tutto il resto. Bene, sai, sapresti dirmi come mai il settore logistico è così importante per il Fosca Moon? Perché ovviamente sappiamo che senza per esempio i fotografi o la stampa sarebbe tutto molto più strano, insomma non, come dire, non saresti in grado di diffondere poi quello che è il Fosca Moon, più o meno. Esatto, infatti come ho detto prima, la vera e propria organizzazione, la vera e propria parte logistica, ci occupiamo delle forniture, della parte tecnica, tutto quello che consolida appunto le basi per non tornare a riuscire al progetto. Fino adesso hai incontrato qualche difficoltà oppure tutto liscio? No, tutto liscio per fortuna. Bene, perfetto. Ok, grazie mille e seguiteci su Instagram, Facebook e Twitter con appunto l'account del Fosca Moon 2016 e fate una donazione a GoFoundMe per il Fosca Moon, siamo raccimolando un bel gruzzoletto e grazie mille e arrivederci.